Sono senza parole, ho letto più di metà libro, parla tutto di me, mi piace un sacco. Ciao a tutti, siete Giochi Fondana e oggi i genitori ci hanno fatto un regalo. Apriamolo! E va? Wow! Buon Natale, Donna! C'è il tuo? C'è scritto? Scritto! Buon Natale! un uomo nero. Eva cresce. Eva cresce. Tieni. Devo vedere questo buon Natale d'Anna. Oggi inizierà un nuovo anno nel quale avrai la possibilità di dimostrare a tutti chi sei e quanto vali, ma soprattutto avrai la possibilità di dimostrare a te stesso la tua forza nell'affrontare ogni paura e preoccupazione. In bocca al lupo d'Anna. Buon Natale. Guardate, queste sono io. Con i miei occhi verdi. Eva. Eva. Vediamo, dove sei? E invece questa è Eva. Grazie. Dissieme. Dissieme, dai. Sì. Ci sono i compagni. Cos'è? Cos'è? Aspetta, aspetta, Eva. Wow, mamma. Sì. Aspetta, aspetta. Eva e Dana. Ma pensate dove Eva e Dana? Le avventure di Eva e Dana. Nooo. Guarda, questo sono io e questo è Eva. Sì. Sì, bella. Il nostro libro. Ecco. Le avventure di Eva e Dana. Vediamo. Guardiamo. Wow, guardate che bella, Eva. La leggerò. Le avventure di Eva e Dana. Eva e Dana. Sì. Sì. Le avventure di Eva e Dana. È bellissima. Guardate. 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 Anche questo è bellissimo. Sono bellissime. È bellissimo questo libro. Sono bellissimi questi libri. E adesso sono le nove e è tardi. Adesso andrò a dormire. Quando andrò a dormire leggerò questi libri. E leggerò anche Le avventure di Eva e Eva. Ciao. 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 E mettete il palo in centro e iscrivete al mio canale. Ciao. 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 Ciao.